Bentornati nel Mondo Nuovo 2.0. Per il format Sguardi sul Mondo Nuovo 2.0, oggi ho con me una madre di generazione D, associazione di genitori con figli disforici. La chiameremo Benedetta e oscureremo la sua immagine per ragioni di privacy. Benvenuta Benedetta. Ciao Elisa. Ciao. Allora, noi abbiamo oscurato la tua immagine e alterato la tua voce perché appunto, come dicevamo, tu hai una figlia che si identifica come transgender e giustamente vuoi proteggere la sua privacy. Vuoi raccontarci un po' di tua figlia? Come la chiamiamo? La chiamiamo Bea. Ok, parlaci di Bea. Allora, Bea intanto si identifica come transgender da più di un anno e mezzo, quindi da quando non aveva ancora 13 anni. Era l'estate del 2021 e dopo i tanti lockdown e un periodo di molto forte stress, forte ansia, era in cura da una psicologa per questi problemi. ha cominciato a parlare con me di disforia di genere buttandola lì come se fosse una cosa che non la riguardava e io ho cominciato ad avere dei campanelli d'allarme. purtroppo evidentemente lei deve aver usato i social network, l'accesso giorno e notte, diciamo, del periodo del lockdown per informarsi, cioè avrà visto insomma dei profili e ha pensato che il suo essere, tra virgolette, diversa dalle sue compagne fosse fatto di essere un maschio intrappolato in un corpo di femmina. E quindi è arrivata da noi, non ne ha voluto parlare con la sua psicologa, è arrivata da noi con questa bomba, diciamo. Sì, e aveva 13 anni, hai detto? Quasi 13 anni? Aveva, doveva fare i 13 anni, sì, sì. Ok, quindi va alle medie in pratica? Andava alle medie all'epoca? Andava alle medie, andava alle medie e purtroppo per il fatto del lockdown aveva perso, cioè diciamo che come se non ci fossero molto state queste medie, nel senso che da metà della prima e per tutta la seconda era un continuo a chiudere la scuola, quindi a quell'età lì non c'era, diciamo, non era più infanzia che si stava bene anche in famiglia e basta, ma non era ancora, non c'erano ancora le capacità di comunicare tra compagni più di tanto anche in un altro modo e quindi diciamo che io penso che lì purtroppo deve aver incrociato dei profili che l'hanno molto affascinata e spinta verso questa convinzione. Considerando che però Bea non è il classico, ormai diciamo classico anche se è un fenomeno molto nuovo perché ho conosciuto tantissimi genitori di ragazzine che erano molto femminili e poi di punto in bianco hanno quel fenomeno che insomma si chiama ROGT, quindi rapido in set gender dysphoria, diciamo che la mia a partire dai quattro anni ha cominciato a ribellarsi a quello che erano le aspettative per una bambina. Quindi se vogliamo, anche se non parlerei di dysphoria di genere nell'infanzia nel suo caso, però comunque c'era molto forte il desiderio di avere giochi più maschili, anche di far parte un po' della squadra dei maschi per poter scegliere lei, anche un po' di ambiguità, non le dispiaceva, aveva i capelli lunghi, non ha mai avuto un problema con il suo corpo, con il suo nome, però lei aveva insomma tante, era un maschiaccio. Il classico maschiaccio. Sì, sì sì. Per cui diciamo c'è un percorso un po' diverso da tante altre che hanno come se gli fosse venuta improvvisamente questa dysphoria di genere dopo aver passato molto tempo sui social o per amicizie con altre ragazze che avevano questo problema, nel nostro caso io penso sia stato sicuramente i social network aver visto questi profili di questi ragazzi giovani, molto belli, perché sono ragazzi che hanno cominciato da poco a fare la transizione, che vuol dire che si sono magari un pochino già gli ormoni che hanno un pochino modificato la distribuzione del grasso corporeo, magari hanno un pochino di barbetta o così, ma fondamentalmente sono degli splendidi ventenni, perché hanno visto quei lineamenti femminili o comunque dei lineamenti delicati e il problema è che quanto dura questa cosa qua. Sono contenti, si sono fatti un sacco di visibilità grazie a questa decisione di sacrificare insomma un po' il loro corpo femminile per questo desiderio di diventare maschi e hanno raggiunto la popolarità grazie a questo. Io penso che, appunto, l'ho già detto, mia figlia abbia pensato che allora era quello per lei, la possibilità di avere il suo spazio nel mondo di oggi e in effetti quello che è successo d'estate quando lei ci ha parlato. Io avevo ingenuamente paura, visto che non si fa che leggere di discriminazione, avevo paura che sarebbe stata bullizzata, avevo paura che sarebbe successo qualcosa che l'avrebbero presa in giro. Insomma, invece, quando è tornata a scuola, che si era tagliato i capelli, è stata una rinascita per lei, nel senso, anzi per lui, perché improvvisamente è come se tutto il mondo si fosse accorto di questa persona. Mentre prima era una ragazza, non bella, non brutta, cioè per me è bellissima, ovviamente, anzi è bellissima, però non è appariscente. Non bravissima a scuola, non però problematica. Insomma, era un po' invisibile. Era invisibile e quando invece si è tagliato i capelli, si è presentata con un nome nuovo, scelto da lei, ha avuto un successo sia con i pari, sia con i professori che l'hanno vista, probabilmente si sono anche un po' preoccupati di come dovevano trattarla, insomma, come dovevano affrontare questa cosa, ha cominciato ad avere voti bellissimi e ha ottenuto amici in altre classi, cioè quando è che in terza media tu ti ritrovi, che arrivi a scuola e improvvisamente hai un sacco di amici anche nelle altre classi che ti vengono a cercare. E' impossibile, no? Invece è successo, perché è diventato una specie di piccolo eroe. E questa cosa qui, cioè se da un lato capisco che per questi ragazzini c'è anche una cosa bella, no? A imparare la diversità e a non prendersi in giro, però c'è il problema che se quando un professore comincia a chiamare un ragazzino con un nome diverso, gli scrive l'email al maschile, nonostante non ci sia stata una richiesta da parte della famiglia di questo comportamento, non va bene, perché poi crea un conflitto anche all'interno della famiglia. Ma quindi i professori di tua figlia immediatamente hanno affermato questa identità? Allora, di fatto lei piano piano ha cominciato a parlare con i professori che le piacevano di più, a confidarsi, a confidare questa sua volontà di essere chiamata al maschile. Da qui io non sono stata avvisata di questa cosa, ma sono stata avvisata in realtà da Bea, che mi ha detto ho parlato con... A quel punto io ho contattato di volta in volta il professore di riferimento, posto che io avevo già parlato con i professori del fatto che lei aveva fatto questa dichiarazione in famiglia e ero stata rassicurata sul fatto che sarebbero stati attenti insomma a quello che avrebbero dato un occhio di riguardo, diciamo, ma senza prendere decisioni ovviamente. Quando poi lei mi ha parlato delle loro discussioni, io ho parlato con questi professori e lì dipende caso per caso, diciamo che ricordo questo professore con cui ho parlato, lui era tutto un sì certo, sì certo, sì certo, dopo un mese scriveva le mail che io leggevo perché le avevo sul mio telefono, le mail della scuola di mia figlia. E quindi anche per così verificare, ma hai consegnato quel progetto, ti ricordi che devi ogni tanto... insomma, cercavo di aiutarla un pochino a stare dietro a tutte le cose e quindi avevo visto che lui aveva cominciato a scriverle al matine con il nome che le aveva detto, nonostante io così stata chiara sul fatto che per me fosse del tutto prematuro. e quindi io e mio marito abbiamo deciso di iscriverla a una scuola privata, anche perché in fase di scelta della scuola superiore io ho parlato con... mi sono scritta perché non mi ricevevano con presidi, vicepresidi di scuole pubbliche e la cosa era trattata con una superficialità, banalità per me allarmante, nel senso che in un caso mi è successo di aver scritto che mia figlia stava facendo fatica e ho spiegato le motivazioni e mi è stato risposto che nella loro scuola era normalissimo poter cambiare nome e che se mia figlia faceva fatica era perché noi non le stavamo dando il supporto adeguato. quindi un giudizio così, senza conoscerci, ma poi al di là del fatto che mi hanno giudicata, che non ti se ne frega a un certo punto, ma il problema è che sarebbe stato impossibile lasciare in una scuola pubblica lasciare, io dico così, lasciare il tempo a Bea di sperimentare, perché io non credo, al di là del fatto che noi abbiamo chiarito, però ancora a 14 anni la strada è lunga, abbiamo chiarito che noi non siamo d'accordo a una medicalizzazione in questo momento, ma nemmeno alla cosiddetta transizione sociale, per un motivo molto chiaro, cioè se da oggi a me cominciassero a chiamarmi al maschile per 4 anni, non credo che non avrebbe un impatto sulla mia salute mentale, sulla mia persona, però avrebbe un impatto sicuramente irrisorio rispetto a quello che può avere su un ragazzino, che ha un'identità in formazione, quindi io chiaramente non vieto a Bea di sperimentare con i suoi compagni, anche questa parte maschile che in lei è molto accentuata per certi versi, poi per altri è una classicissima ragazzina, cioè il gruppo delle amiche, il ragazzino che le piace, molto materna per certi versi, anche con la sorella, insomma, quindi poi è vero, le piace i sport un po' maschili, le piace la Formula 1, però che male c'è nel senso, anzi, io l'ho sempre trovata super tosta, cioè per me era un motivo d'orgoglio questo suo essere un po' ribelle. E che purtroppo si confonde mascolinità con essere maschi, e questo è il grande problema di questa ideologia che viene propagandata sui social, la scuola, eccetera, eccetera. Si confonde l'essere mascolini con l'essere maschi, e l'essere femminili con l'essere femmine. C'è una completa sovrapposizione, no, dei piani. E il problema, ovviamente, come dici giustamente tu, è che se si parla di un ragazzino o una ragazzina con il carattere, l'identità, il pensiero, informazione, è ovvio che se tutti gli adulti, soprattutto, perché sai, finché è una cosa tra ragazzi, ma se tutti gli adulti nella tua vita ti affermano e ti dicono sì sì sei un maschio, ti chiamano al maschile, è certo che ha un impatto sulla tua psiche. Per noi è successo questo nell'anno, diciamo, di scuola pubblica, in cui peraltro avevamo, quindi c'era qualche professore che cominciava a chiamarla al maschile, e avevamo identificato un centro, una psicologa che la seguiva, e anche lì, durante la terapia, veniva usato il nome da lei scelto, i pronomi maschili, e a casa lei soffriva molto a casa e negli ambienti in cui era bea. E poi quest'anno, invece, in cui non c'è più nessun adulto, diciamo, che la ferma, anche se comunque noi rispettiamo il fatto che lei non abbia particolare piacere nelle relazioni più intime, più private a essere, chiamata col suo nome femminile, e quindi cerchiamo magari di usare dei nomini o gli affettuosi, che non siano per forza il suo nome, tipo tesoro, amore, cucciolotto, cose così, insomma, no? Però quest'anno lei ha cambiato tanto, è rasserenata moltissimo, e con i suoi amici continua a essere, a volersi presente. E anche col mondo, soprattutto, lei si sente molto più serena, più tranquilla, a presentarsi come maschio, più protetta, si sente. Io dico che è un po' come un'armatura che mette su. Sì, e la creazione di una nuova identità, quante volte abbiamo voluto, magari sempre da ragazzini, da adolescenti, io me lo ricordo, ricominciare da capo, sembrava sempre una prospettiva, come dire, una prospettiva ottimale, no? Quando si sta male, quando non ci si sente compresi, quando si è soli, quando ci si sente diversi, si tende un po' magari a voler ricominciare da capo, no? Una nuova identità, un nuovo taglio di capelli, come hai detto tu, si è sentita bene, se le persone si riferiscono a lei in un certo modo, si sente meglio, come dici tu, una maschera, no? Solo che 14 anni, voglio dire, se io penso a come ero a 14 anni, cioè come eravamo tutti a 14 anni, nessun adulto dovrebbe validare queste fasi, perché sono fasi, si passano delle fasi, specialmente se, come dici tu, si tratta di una ragazzina che era invisibile. Io mi ci identifico molto in questa descrizione quando avevo 12-13 anni, quello che è. Capisco, infatti, io non sono mai stata mascolina, non ho mai avuto, non sono mai stata un maschiaccio, come altre mie amiche, ad esempio, però capisco la sensazione di sentirsi soli, incompresi, non accettati, non amati dai pari, perché i genitori è ovvio che ti amano, ma ai pari non ti senti compresa, ti senti diversa, no? Adesso abbiamo un'ideologia, una propaganda che ti dice, ecco, assumi questa nuova identità, tutti i tuoi problemi svaniranno quando lo farai, no? Che all'inizio è vero, peraltro, all'inizio è vero, a loro sembra così e non vedono gli effetti collaterali, non hanno un'idea, cioè, non si è mai a vedere questi ragazzini appunto di cui parlavamo, questi ventenni che hanno cominciato da poco, che sono super belli, che spesso hanno delle fidanzate, quindi in qualche modo hanno trovato il modo di normalizzare la loro omosessualità, l'essere lesbiche, e loro li vedono, hanno delle vite bellissime su Instagram, TikTok e così, però se vai a vedere un uomo, diciamo, F2M di un'età più adulta, spesso tu vedi dei corpi che non sono proprio, cioè, nel senso, vedi delle persone che non hanno più capelli, che sono appesantite, cioè, per non parlare poi delle problematiche anche proprio di salute, e chi lo sa della loro vita sessuale, insomma, diciamo, più relazionale, della possibilità anche di farsi una famiglia, insomma, su tutte cose che sono un po' un punto di domanda, grosso. Certo, tu hai menzionato la psicologa da cui è andata tua figlia, che subito ha cominciato a chiamarla con il nome scelto e con i pronomi maschili, quindi a tutti gli effetti ha adottato l'approccio affermativo fin da subito. In teoria no, nel c'è, dal punto di vista del nome sì, però a noi aveva spiegato che era un po' una necessità per il fatto che altrimenti la ragazza non si sarebbe aperta e quindi non si sarebbe creata una relazione, quindi noi l'avevamo un po' presa come una strategia, se vogliamo, per cercare di, appunto, di creare un contatto, ma io penso che un pochino sia stata, cioè di sicuro questa persona era molto cauta, nel senso non ha, infatti non ci ha consigliato di andare in un centro per la disforia, però la perplessità poi ci è venuta quando, andando noi a parlare con questa professionista, al di là del fatto che chiamava Bea col nome scelto e pronomi maschili, l'ha fatto anche con noi in assenza, la nostra figlia ha parlato come di un maschio e lì è come se Bea l'avesse convinta di essere un maschio nei pochi mesi che sono passati da quando noi abbiamo fatto tre, quattro colloqui di un'ora e passa per conoscere e insomma questa professionista ci era sembrata molto seria, molto cauta e poi dopo tre mesi ci siamo trovati invece una persona che ci ha detto che ci ha parlato di un figlio, non di una figlia e quindi lì non abbiamo capito perché, come se avesse cambiato idea, non lo so. Capisco, e tua figlia ha visto solo questa psicologa, non ne ha visti altri? Allora, mia figlia adesso ha continuato per qualche mese con questa psicologa ma con poca convinzione, diciamo che dopo questo episodio noi abbiamo permesso solo che facessero dei test di personalità e poi c'è stata l'estate, quindi si è perso un po' questo rapporto e poi lei non ha più voluto continuare la psicoterapia per il momento perché sta bene fortunatamente cioè essere bene e va bene a scuola, è un buon momento Te lo chiedo, quando lei per la prima volta ha detto a te e a tuo marito che si identificava come un maschio quanto conoscevi del fenomeno transgender all'estero? Niente Non conoscevo e tra l'altro pensavo che l'ideologia gender non esistesse Grande classico E mi sembravano anche molto esagerati cioè vedevo queste accuse, diciamo, come una forma di bigottismo Poi il primo mese cercavo disperatamente anche perché all'estate non c'era molta gente che mi dava retta di professionisti quindi cercavo informazioni fortunatamente conosco bene l'inglese perché altrimenti non avrei trovato nessuna alternativa perché tutto quello che trovavo... io ero allibita non mi capacitavo perché io pensavo di poter trovare un aiuto e invece trovavo soltanto siti, opinioni, articoli che mi dicevano che dovevo dire che andava bene questa cosa e affermarla e anche la psicologa che la seguiva ai tempi mi aveva detto sì, se non è un problema per voi chiamatela come vuole essere chiamata cosa che noi non abbiamo fatto perché abbiamo preso tempo ti abbiamo detto per noi è importante che tu stia bene e tu sia felice e noi ti ameremo qualsiasi cosa diventerai però lasciaci tempo perché non ne sappiamo abbastanza e poi dopo fortunatamente abbiamo trovato un altro purtroppo non abbiamo trovato ancora qualcuno che lavori con lei qualcuno che lavori con lei per capire bene chi è cosa vuole diventare quali sono le sue aspettative cosa c'è di realistico nelle sue aspettative non l'abbiamo ancora trovato perché sono talmente pochi i professionisti che osano mettere in discussione il dogma dell'affermazione che poi è difficile anche trovare quello che può entrare bene in connessione con quel ragazzo quella ragazza perché ti si riduce la scelta del 90% se va bene ma a tua figlia è stata fatta una diagnosi di disforia? no, io l'ho tenuta lontana da qualsiasi diagnosi in prima battuta peraltro si pensa che gli ambienti cattolici siano avversi diciamo, no? cioè siano contro l'ideologia di genere in realtà io avendo alle spalle una famiglia molto po' cattolica quando ho visto che non trovavo professionisti mi sono rivolta anche provando alle associazioni o comunque ad ambienti che sicuramente di stampo cattolico e mi ha fatto detto comunque di portarla a un centro per la disforia e io però lì non ce l'ho fatta proprio e fortunatamente non ce l'ho portata perché poi molto dopo trovando anche le altre mamme ho scoperto cosa succedeva in questi centri e il problema di avere una diagnosi di disforia di genere cosa che mia figlia darebbe subito perché ha anche il fatto che da piccola giocava con i giochi dei maschi alla fine è quello che c'è scritto nei criteri per la diagnosi di disforia sia negli adolescenti che nei bambini che negli adulti poi guardano la determinazione dei seri razzi e sicuramente Bea è determinata su questo non sono dubbi in questo momento è molto determinata ok e tu come hai trovato i genitori de gender che poi sono diventati generazione D? allora gli altri genitori io ho cominciato a entrare in contatto con loro tramite un'associazione internazionale si chiama GenSpect a cui mi ero rivolta per cercare aiuto ma per molti mesi non ho trovato nessuno in Italia quindi mi riferivo praticamente al mondo però io cercavo principalmente professionisti per aiutarmi medici o psicologi ma non trovavo niente a un certo punto sono riusciti loro a mettere in contatto alcuni genitori e da lì siamo siamo partiti abbiamo deciso di fare quello di cui avremmo avuto bisogno noi ovvero un'informazione in italiano su quello che stava succedendo e un'alternativa un'alternativa all'affermazione che è difficilissima questa alternativa perché tanti pensano cioè almeno veniamo noi genitori che non cambiamo subito il nome il pronome dei nostri figli veniamo trattati come persone che non sono capaci di cambiare non sono capaci di accettare il cambiamento e rimangono ancorate però io vi dico che per me sarebbe mille volte più facile in questo momento cambiare il nome a mia figlia tant'è che io fatico a usare il femminile con mia figlia e cerco tutti gli escamotage possibili per non farlo giro le frasi perché non voglio darle un dispiacere un dolore una fatica perché sono la sua mamma d'altra parte credo che sia il mio dovere fare questa fatica per lasciarle il tempo di sapere qual è la sua strada da quando è successa questa repentina se possiamo dire identificazione come come sono cambiati i rapporti tra di voi tra genitori e figlia all'inizio moltissimo cioè quasi cioè proprio è come se questa cosa avesse distrutto la relazione è vero che già lei si era molto incubita con i lockdown quindi era già diventato faticoso comunicare ma a quel punto lì qualsiasi cosa era mi stai facendo misgendering mi fai dead naming tra l'altro la cosa curiosa era che inizialmente tutta questa cosa era in inglese cioè lei parlava di questo argomento a parte non riusciva molto a parlarne ma più che altro ci scrivevamo e la cosa strana era che queste conversazioni anche su whatsapp avvenivano in inglese quindi se lei mi stava parlando di una cosa quotidiana tipo torno a mangiare non torno a mangiare mi scriveva in italiano se invece parlavamo della sua identità di genere insomma di suoi pensieri più profondi parlavamo in inglese ma questa cosa ha fatto pensare che comunque un bel indottrinamento ci sia stato a livello di social network su questa tematica insomma insomma quindi abbiamo passato mesi molto difficili in cui ci vedeva proprio come gli antagonisti perché non avevamo festeggiato come gli altri il suo cambio sesso diciamo che poi in effetti mi fa molto strano pensare a quando ha voluto tagliare i capelli perché io sono andata con lei e sapevo che li voleva tagliare corti e chiaramente gliel'ho lasciato fare anche perché sono convintissima che uno possa essere una femmina con i capelli corti senza problemi purtroppo usciti di lì basta avevo un maschio per le persone io avevo un maschio cioè non la guardano neanche in faccia è un maschio siccome si veste con vestiti larghi e maschi e fa la voce tutta profonda e ha il capello corto con un taglio un po' dei ragazzini quindi adesso basta prima avevo una femmina e poi avevo un maschio ed è bastato il taglio di capelli e poi solo il taglio di capelli solo perché prima lei si vestiva comunque con la tuta dell'Adidas come tutti i ragazzini e poi solo si è tagliati i capelli poi dopo ha voluto comprare anche il binder e tra l'altro ora questa è una cosa recente vabbè no dai lascio perdere spieghiamo sì dai lasciamo perdere se non ti va però spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è il binder perché io l'ho detto in vari altri video però magari c'è qualcuno di nuovo che vede questo video per la prima volta è nuovo sul canale non sa che cos'è un binder il binder ha un corpetto contenitivo per appiattire il seno che loro queste ragazzine trovano sui social i link per andare sui siti a comprarli e sono sponsorizzati dai ragazzi trans che fanno proprio delle collaborazioni o hanno i loro prodotti che sponsorizzano e praticamente sponsorizzano cioè vendono questi questi binder loro sono appunto o i testimonial o addirittura ancora più più organizzati per cui si sono fatti il loro sito e fanno anche le spedizioni segrete in modo che mamma e papà non se ne accorgano io la prima volta che mi ha chiesto il binder ho detto di no che non che non l'avremmo preso che saremmo andati magari in un negozio sportivo a prendere dei reggisiani sportivi che fossero comunque un po' contenitivi ma che non ero d'accordo sull'utilizzo di questo dispositivo che dovrebbe essere un dispositivo medico forse perché di fatto ha delle conseguenze anche sul fisico però lei aveva già un piano su come acquistarlo un piano che secondo me a 13 anni appena fatti era stato ben studiato anche da qualcun altro nel senso che doveva raccimolare i soldi rubacchiando di qua e di là facendo una colletta tra gli amici e poi comprarsi una prepagata e poi appunto questi siti ti offrono la spedizione anonima adesso non so bene comunque ti garantiscono la privacy e quindi insomma ci siamo ritrovati ovviamente io mi sono accorta di tutto non è che a 13 anni non è che non ti accorgi l'ho seguita in questa cosa e poi quando l'ho ho fatto il momento in cui l'ho beccata così non ho avuto il cuore di toglierglielo forse ho sbagliato però non ho avuto il cuore di toglierglielo e e niente da lì lo mette sempre nel suo caso siccome non ha un seno importante non è particolarmente problematico nel senso che non è che soffoca o così però comunque sta molto goppa e questo è un problema per il suo fisico per la sua muscolatura insomma sono tutte cose che vabbè queste magari non sono gravissime come altre che ci si prospettano o comunque a cui non possiamo non pensare visto che nostra figlia ha come sogno di diventare un maschio che vuol dire che sogna di amputarsi il seno quindi per noi insomma la gobba non è un gran problema però però in realtà anche questo è anche il fatto di sì di nascondersi è molto doloroso cioè è veramente molto doloroso per per i genitori ma anche per loro cioè è proprio una cosa dolorosa e siamo molto da soli nessuno e dobbiamo anche stare attenti quando li portiamo dal medico non abbiamo il supporto il sostegno dell'altro adulto non ce l'abbiamo praticamente mai che sia un educatore che sia un insegnante che sia un medico dobbiamo guardarci dagli altri adulti capisco e questo è gravissimo secondo me io ti ringrazio per per esserti aperta per averci raccontato questa testimonianza soprattutto perché guarda è comprensibile secondo me a molti il disagio adolescenziale non è concepibile secondo me a molti il fatto che gli adulti i professionisti gli adulti di riferimento di cui un ragazzino necessariamente si fida psicologi medici insegnanti non è concepibile che si pieghino a un'identità dichiarata che tutti sanno che tua figlia non è un maschio tutti lo sanno che è una femmina lo sanno tutti e questo secondo me è vergognoso è una piaga sociale io lo dico perché credo che stiamo veramente rovinando una generazione di ragazzini e soprattutto ragazzine io te lo chiedo io lo so già diciamolo per chi ci ascolta nel gruppo di genitori di cui fai parte quanti hanno figlie femmine con questa problematica in proporzione più o meno la stragrande maggioranza direi 9 su 10 io te lo dico tutti gli insegnanti che si rivolgono a me raccontandomi che hanno alunni che si identificano come transgender o come non binary mi dicono lo stesso numero 9 su 10 e se andiamo a vedere all'estero io ci ho fatto il video sulla ROGD ROGD come la vogliamo chiamare sulla disforia esordio rapido nelle adolescenti però insomma ci sono un sacco di documentari che si possono consultare se uno sa l'inglese e sa dove cercare tra l'altro il trend è lo stesso 9 su 10 ed è mi sembra assurdo che chi sta dall'altra parte della barricata mettiamolo così tra virgolette insomma chi sostiene questa ideologia non si ponga a questo problema anche perché se pensiamo alla disforia di genere storicamente quindi da cent'anni più o meno che viene inquadrata come un fenomeno specifico se ci pensiamo è sempre stato un fenomeno quasi totalmente maschile perché nessuno si rende conto che qui siamo di fronte a un fenomeno diverso dove erano negli anni scorsi nei decenni nei secoli scorsi dove erano tutte queste ragazzine disforiche e se crediamo a loro se crediamo alla retorica dei suicidi se non mi affermi se non mi fai fare la transizione starò talmente male che mi suicido dove erano tutti i suicidi di queste ragazzine disforiche hai ragione hai ragione io penso che un grosso problema sia che c'è un fraintendimento cioè la maggioranza delle persone e forse e l'avrei fatto anch'io prima di finire in questa in questa storia pensano che siccome i genitori sono d'accordo cioè sto parlando degli adolescenti che iniziano un percorso di transizione sono d'accordo gli insegnanti sono d'accordo gli psicologi sono d'accordo i medici sono d'accordo i genitori chi sono io per dire che quel ragazzino non ha bisogno di quello il problema è che i genitori semplicemente non hanno alternative e meno mezzi hanno economici per fare terapie privatamente e culturali per andare a informarsi anche all'estero più sono obbligati a fare questo percorso minacciati dal possibile suicidio del figlio il problema è che se è vero allora questi ragazzini intanto quasi sempre hanno anche delle altre problematiche di salute mentale di fragilità quindi comunque difficile distinguere se la loro diciamo comportamento di autolesionismo e eventuali minacce di suicidio siano correlate alla discorria piuttosto che ad altre problematiche in più il problema una volta detto che questi ragazzini hanno più probabilità di commettere suicidio rispetto ad altri il problema è che questa cosa non si risolve perché la popolazione trans continua ad avere questi tassi più elevati queste percentuali più elevate quindi di cosa stiamo parlando i genitori sono messi davanti a questo quelli che sono più criminali sono i medici gli psicologi io penso che tanti siano in buona fede però non possono adesso con quello che sta succedendo all'estero chiudere gli occhi in base al fatto che quando erano magari in buona fede hanno sbagliato perché va bene avete sbagliato adesso basta io credo che la maggior parte di questi professionisti tra l'altro sia totalmente ignorante sul fenomeno perché io ho parlato con alcuni psicologi sono mosche bianche però però ci sono ho parlato con alcuni psicologi e psicoterapeuti che capiscono il problema capiscono la portata del problema e mi dicono io sono esterrefatto a vedere i miei colleghi come come si approcciano non ne sanno niente niente però c'è sempre questa confusione tra lgb e t hanno paura di star perpetrando terapie di conversione cioè la terapia di conversione era elettroshock sugli omosessuali rendiamoci conto ora terapia di conversione è non riconoscere che una femmina è una femmina è è pazzesco è pazzesco questo è stato un po' pianificato a tavolino da chi ha fatto passare questa t di trans le persone la vedono come come se fosse gay cioè nel senso come se fosse un po' la stessa storia un po' la stessa battaglia e prima di addentrarci si poi tra l'altro in Italia io parlo sempre con i genitori perché poi alla fine secondo me è l'unico modo per per portare le persone a capire che dramma stiamo vivendo e devo dire che le persone quando ci parli e gli spieghi cosa sta succedendo capiscono il problema è che non lo sa nessuno nel senso che loro prima ti dicono vabbè ma in Italia non lo fanno i minori e tu dici sì no certo che lo fanno sì ma però ci vuole il tuo il tuo consenso e tu gli dici sì però sai come ottengono il consenso cioè ti dicono che se no si ammazza e cosa devi fare e le persone non lo sanno pensano che sia una roba dell'America e invece non è vero eh già questo è un grande problema io credo che con gli anni si risolverà il problema per si risolverà intendo che molta più gente sarà consapevole di quello che sta accadendo e con un po' di fortuna all'estero la cosa esploderà così io dico fortuna ma in realtà sulla pelle dei ragazzi questa cosa però la gente si vedrà che cosa è successo all'estero perché esploderà questa cosa prima o poi e come diceva giustamente Marina Terragni questo sarà uno dei più grandi scandali medici del secolo anche noi lo crediamo il problema che le vittime saranno i nostri figli purtroppo speriamo di no speriamo di no speriamo di riuscire a tenere di sufficiente pazio per non essere obbligati a fare questo percorso anche se non è loro già Benedetta io ti ringrazio starei a farti tante altre domande per tanto ma sono sicura grazie Lisa anche io ti ringrazio per il tuo lavoro perché il fatto che tu lo stia facendo senza essere direttamente coinvolta è veramente incredibile davvero con il cuore grazie grazie bisogna bisogna informare le persone perché come hai detto tu nessuno sa niente l'ideologia gender non esiste non esiste finché non tocca tuo figlio però e qui non si tratta di accettare il figlio gay qui siamo di fronte a una prospettiva di medicalizzazione permanente con tutte le conseguenze del caso grazie Benedetta io avrò altri genitori mi auguro sul canale ascoltare le vostre voci è davvero davvero importante quindi io ti ringrazio e ti saluto grazie ciao Elisa ciao ciao se ti è piaciuto questo video metti mi piace e iscriviti al canale il mio nome è Elisa benvenuti nel mondo nuovo 2.0